Non ero sicura di cosa mi sarei dovuto aspettare prima di usare i cerotti. Quanto mesi fa si è sviluppata una miodesopsia nel mio occhio. Praticamente una specie di... come vedere delle mosche o delle ragnatele negli occhi. Sono andato a vedere una retinologa che mi ha detto no, non andrà mica via. Ho iniziato a mettere i cerotti X39 per un giorno. Mi sono svegliato all'indomani e dopo un po' mi sono detto ma dove è finita questa miodesopsia? Vedo un pochino di disturbo nel mio campo visivo ma quasi niente. Sono andato dalla retinologa e lei mi fa oh mio Dio, non ho mai visto una situazione del genere. Si è ridotta del 70% in un solo giorno. Mi ha assolutamente sconvolta questo risultato. Grazie a tutti.